Trasferitasi molto giovane nella capitale. Dopo una serie di comparse nel cinema in film quali il commissario Verrazzano. A tutte le auto della polizia. La svastica nel ventre. H. Gianni Boncompagni utilizza la sua immagine nella sigla di Discoring del 1978. Dove si muove ai ritmi del pezzo baila guapa dei Busse Connection. Interpretato dallo stesso Boncompagni che rappeggia il brano. Nel corso di questi periodi. L'artista recita anche in teatro accanto a Erminio Macario e Silva Coscina. Nello stesso anno incide per la Durium due singoli. Ping Pong Space. Dalle venature Space Music. E uno. Firmato da Andrea Lovecchio. Altro brano dance. Che otterranno notevole successo in Grecia e Portogallo. Esce nel 1979 il suo primo film come protagonista. Baila guapa. La piedi monte nello stesso anno dà alla luce suo figlio Giovanni. Dopo altri comparse in film e fotoromanzi. La piedi monte nel 1983 esce con un altro singolo ma che bella serata. Scritto da Valerio Liboni e inciso per un'etichetta indipendente. La gatto cicova. In questo periodo posa nuda per l'edizione italiana della rivista Playboy. Il singolo viene stampato anche per il mercato tedesco. Dove viene abbinato anche un videoclip esclusivamente per la Germania. L'artista stava anche per incidere un 33 giri. Ma la produzione le bloccò l'uscita e si impossessò del master. Incide anche un brano per bambini dal titolo Arcobaleno. Ma la canzone rimane inedita. Come Follome scritta da Sammy Barbo. Besame Mucciaccio e Ballerò. Qualche anno dopo la piedi monte poserà nuda in servizi fotografici. Anche pornografici. Per riviste come Blitz, Leore e Mene. Successivamente l'artista rimane attiva fino al 1995. Dove si esibisce in molti spettacoli in diverse piazze italiane con diversi ballerini. Dopodiché abbandonerà la carriera per quasi 15 anni ritornando a Mantova. Dove nel corso degli anni si sposerà. Nel 2009 la piedi monte ha partecipato ai migliori anni. Contenitore musicale condotto da Carlo Conti che ospita artisti famosi nel recente passato. Dagli anni 50 agli anni 2000. Oltre ad essere ospite nel programma TV Una poltrona per due. Ha rilasciato una lunga intervista per Libero. Nel dicembre 2010 ha partecipato con il brano inedito Sogno in blu al progetto musicale Contanto. Cuore. Un doppio CD realizzato dalla palestra musicale saranno i Giovani di Pisa. Prodotto da Michele Del Pecchia che ha visto la presenza ed il lavoro anche di Dario Gai. Viola Valentino. Daniela Davoli. Riccardo Cioni ed altri artisti. Il doppio CD è acquistabile presso la casa discografica Melody Records. Gloria ha ripreso a esibirsi facendo diverse partecipazioni in spettacoli per locali e discoteche.